Diverse squadre dei vigili delle fuoco provenienti da Clusone, Gazzanighe e Bergamo sono intervenute questa mattina a Clusone per un incendio che si è sviluppato all'interno di un capannone industriale nella zona di via Brescia. L'allarme è scattato intorno alle 7.30 quando le fiamme hanno fatto cadere una lampada a terra ed è entrato in funzione il sistema di sicurezza di un immobile che si trova dietro al supermercato Lidl, una falegnameria posta sotto l'unieuro. Secondo una prima ricostruzione sembra che la combustione possa essere iniziata ieri sera e continuata lentamente per tutta la notte. Il primo a intervenire è stato uno dei cotitolari che con un estintore ha agito sulle fiamme ma ha dovuto presto desistere a causa del denso fumo. I vigili delle fuoco una volta sul posto hanno risolto in poco tempo la situazione. Il rogo ha distrutto due bancali di parcheggia finito e danneggiato anche due piellatrici che si trovavano accanto al legname. I pompieri hanno quindi verificato i locali decenti aspettando anche l'apertura dell'unieuro dove è entrato un po' di fumo ma senza causare danni al locale.